Ti stai chiedendo se il tuo gatto si fida di te? In questo video di Animalpidia ti mostriamo 7 comportamenti felini quotidiani che rivelano che il tuo gattino ti vuole bene e ha fiducia in te. Al contrario, se non mostra questi segnali, vorrà dire che sarà necessario lavorare un po' più duramente per guadagnarla. Da non perdere! Uno dei segni che il tuo gatto ti ama e si fida di te e che vuole condividere il suo tempo con te. Quando un gatto ha fiducia, può invitarti a giocare o sedertisi accanto sul divano per godersi un delizioso pisolino sapendo che sei lì per prenderti cura di lui. Se il tuo gatto vuole dormire con te, sul petto, in piedi o accanto, saranno ulteriori segnali che il tuo gatto si fida di te. Il corpo dei felini produce secerne feromoni che servono principalmente a contassegnare il territorio e indicare il possesso, ma anche a determinare che l'aria marcata è sicura. Quindi, quando il tuo gatto si strofina su di te, sta dicendo che ti ama, ha fiducia e che tu sei di sua proprietà. Se vuoi sapere perché il tuo gatto ti segue in bagno, non perderti il nostro video in cui ti spieghiamo tutto su questo comportamento. Anche se per te forse è sgradevole, se il gatto ti porta un animale morto come regalo e offerta, vuol dire che il tuo gatto ti ama. Questo comportamento deriva dalla sua natura di predatore e non deve essere represso o corretto, perché il micio sta solo dimostrando che ti considera parte della sua famiglia, perché condivide con te la preda che ha cacciato. Se il tuo gatto si mette a pancia in su mostrandoti la pancia, vuol dire che si sente protetto e soprattutto che si fida di te, perché il ventre è una delle parti più vulnerabili del suo corpo, che non mostrano a chiunque per non sentirsi indifesi. Se il tuo gatto invece ti mostra la pancia per essere accarezzato e ricevere grattini, ti ama e con te si sente al sicuro. Prima di continuare con il video, non dimenticare di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato ogni settimana su tutto ciò che condividiamo. Il primo dei segnali per capire se il tuo gatto ti ama è se impasta su di te. Secondo gli esperti, i gattini fanno la pasta sulla pancia della mamma per stimolarla a produrre più latte e rafforzare il vincolo che li lega. Quando il tuo gatto ti fa la pasta sulle gambe, sul ventre o qualsiasi altra parte del corpo, non si sta preparando al prossimo pisolino, ma ti sta dimostrando il suo amore, poiché riproduce un gesto che faceva da piccolo la sua mamma. Uno dei modi più affidabili per conoscere lo stato d'animo del gattino è guardargli la coda. Quando è nervoso o spaventato, la coda tende a gonfiarsi ed arricciarsi. Se invece il gatto ti si avvicina e ti si strofina contro, alza la coda e piega la punta, vuol dire che ti ama. Questo comportamento è tipico in un gruppo di gatti quando si sentono tranquilli e rilassati, per cui se il tuo gatto lo fa in casa puoi sentirti fortunato. I gatti fanno le fusa in modi diversi, a seconda dello stato d'animo e di ciò che vogliono comunicare. Come noi esseri umani, anche i gatti hanno voci diverse e cambiano anche l'intensità del tono e delle vibrazioni per esprimere emozioni diverse. Se il tuo micio fa le fusa in modo soave, ripetuto, profondo e intenso, quando riferita a te o imbraccia a te, mentre lo accarezzi, non c'è ombra di dubbio, si sente rilassato e a suo agio con te. Sei la persona preferita del tuo gatto? Come sapere se il gatto ti ama? Te lo spieghiamo in questo video di Animalpidia. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!